30 bidi in gara, 5 co-conduttori. Il padrone di casa resta a Madeus. Comincia oggi, martedì 6 febbraio, la 74esima edizione del Festival di Sanremo, tra conferme e colpi di scena. C'è chi è pronto a scommettere un po' di o tutto al femminile, con Angelina Mango, Anna Lisa e Alessandra Moroso. Chi è pronto ad alzarsi dal divano e scatenarsi sulle note di qualche nuovo tormentone, magari quello dei Recolors. C'è il timbro unico e inconfondibile di Negramaro, la penna delicata di Deodato, l'impegno al fianco delle donne di Fiorella Mannoia. C'è la scommessa di Jolie, con un brano 100% napoletano. Ci sono il rock di Rompente di Loredana Bertè, il punk della SAD e il rap del 3. San Giovanni sembra trasformare il suo brano in una missione di colpe e Mister Rain ancora una volta punta sull'emotività. Chi ama la tradizione, poi, non potrà che apprezzare i ricchi e i poveri. Insomma, è un festival dalle mille sfumature. E voi? Per chi fate il tifo? Non resta che sintonizzarsi in prima serata su Rai 1 e concedersi un primo ascolto delle 30 canzoni in gara.